alla nostra scuola il mondo di peter pan di corato c'è un gran fermento siamo stati tutti invitati per un grande evento tante dame e cavalieri preparano entusiasti danze e canti per far rivivere di epoche antiche gli incanti su via venite anche voi a tuffarvi nel passato vi faremo vivere una serata che non avreste pensato vi aspettiamo numerosi a ruvo di puglia il 15 giugno per il grande evento rievocativo di rerum non mancate ma 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.